un'altra cosa ma ci sta questo ragazzi subito un'altra battaglia via così ben 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 si sono i primi due carri e ovviamente io sono tu sei primo perché hai inizi con l'articolo la stessa storia dall'anno scorso non è vero sono prima perchè sono più forte c'è chi nei torre sulla valle vai vai è ora di andare vicino al ponte guarda vai di ricarica boh adesso non mi ha ricaricato ecco è ricaricato io ho 15.6 io ho 15.6 perchè io non ho destenzuabilità ok io sono pronto ecco lì ester si si aspetta che lo prendo lo prendo lo prendo ho fatto 99 di danni adesso li faccio un uomo 99 di danni no l'ho mancato l'ho mancato l'ho mancato ahia 310 bello c'è il dv2 che non sparano a me perchè è stupido l'ho mancato 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 bello questo pd2g qua è veramente utile stai guardando il cielo è vero c'è un bel tramonto hai ragione non si sa cosa sta facendo si guarda in giro io direi di far una bella partita con un carro leggero io direi di fare una bella partita con non so che c***o e io si rispara ah no è troppo brutto ah è troppo bello tu sfaragli attento eh occhio eh allora cosa vado di? un'ora e ventinove? un'ora e ventinove? eh? un'ora e ventinove benissimo no 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 e la mia controlla mia corazza no 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 mia e la mia segni di una pancia io non ho avuto la corretta rarraga con te che era sull'esterno 60 60 però che arriva fino al 90 se l'angoli bene 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 tipo così è 100 non è che così dicono fuori eh oi 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 ah vabbè dai andiamo a curare la parte non ci credo gli ho dato il cingolo in movimento eccomi avanti l'amore non ho preso mf sono in mezzo ai carri mi stanno facendo una sottiletta di di exter di exter e io sto girando l'M7 guarda adesso gli faccio uno di quei body ecco appunto ai 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 c'è l'ARLO 44 guarda 222 222 234 234 234 234 234 244 244 244 244 244 244 254 255 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 265 265 265 265 266 276 un 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 cittadino si vai dritto abbiamo dei casi da schifo però poi perdiamo c'è esatto oh no maschino questo tipo meraviglioso io la sedia con la tipo da boss io la sedia di plastica baby boss la sedia di plastica nera Vitto ha scoperto come guardare i giocatori dell'altra squadra prendendo tab esatto una scoperta per me lo vai che devi andare dall'altra parte ah adesso ci vanticent'anni vado vado ho fatto una tirata di lag ecco lì ciccioni tutti tutti adesso io li flanco li flanco li flanco li flanco sto arrivando a 23 km orari 26 27 guarda è che baduc gli faccio adesso lo scoperta lo scoperta lo scoperta abbiamo ucciso il il massacro? ti chiamavo il massacro? quello ehi quel t40 ciccione l'ho preso l'ho lasciato a 109 quel ciccione bello dove spari? lo stai sparando? bravo rimanzato ehi 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 c'è uno stupino sto arrivando con la carta ecco che finiscono le mie primate in porte no? ah te l'ho rubato ahah ho attenzione che c'è un massacro sulla mia oh iii si lo so bravo ha sparato contro la terra fantastico c'è un signo e un stag oh iii ecco la mia prima scoperta l'ho inseguito la mia seconda ma è un po' grosse tu uoviti io ne ho già fatte due ciccione guarda con caldo ehi dai non si decidere con gli sciassi ma è vero ehi no quello con caldo ma vuole albira questo mi uccido io l'ho inseguito colpo critico colpo critico esatto the bearded guys eh? tanto l'Alecto sarà un loro sport e lo faccio per io e non colpo lo faccio per io e non colpo l'Alecto anche se andiamo avanti ooo non c'è dov'è? e' accampato e' acqua direi verdad eccolo cosa ci fa lì? un piccione questo è venga a picchiarti Ho già loadato gli HE Come è veloce Ma quando sei veloce? Vado a 20 Io sto andando a 20 in salita Questo vado a scopare da left Vai vai, corri, corri, forest No, lo stugino non me lo ruba Lo stugino non me lo ruba Boom Bene Gigi, ah ah, 3 kg Sono 50 minuti che giochiamo Oh, sono da qui, è fantastico Abbiamo preso un sacco di... Dai, facciamo l'ultima Va bene Oh, questa qua che mi ha fatto adesso la dobbiamo mettere Eh, perché, tra chi il bellissimo Eccoci ragazzi, l'ultima battaglia De questo quarto video delle Blitz Battles Eh, devo dire che... Io almeno una kill almeno... Ogni partita lo fa E quindi riesci a prenderlo a mold Penso di sì Tanto non possiamo registrare comunque Che? Eh, perché non ho registratore Eh, tra quante che ti arriva? Eh, mi arriva... Dove lì Dove lì Oh dai, siamo nella città? Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, sì, sì E tu stai giocando dal computer? Sì Sì Bravo, bravo Eccolo Il Leonardo Oh, io, io Vi è gli, mi ho fatto danno Siamo già così? No No, si è girata, sto ciccio Preso Brutto cicciano Deve pensare di andare Dobbiamo uccidere con l'Ester A destra Vai Stai affettando Si anche a me Non abbiamo neanche grappato Che cosa fa? Aia aia Vai No, non è rimasto niente in vita C'è quel Leonardo C'è il Leonardo Vabbè, vabbè Oh, 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 oh 433 Bello No, è rimasto niente Aia Aia Ah, c'era PZ4 dietro Occhio dietro PZ4 dietro PZ4 dietro PZ4 dietro PZ4 dietro PZ4 dietro No PZ4 dietro PZ4 dietro è arrivato al T-34 si ho vinto ah mi sono rimaltato un calvo eh sono morto il T-34 è inutile sei inutile esatto va bene dai non possiamo fare un'ultima cosa così da esatto dai ultima del giorno attenzione proprio noi le battaglie la schiera si un po' si dai però non troppo cosa? un po' si dai però non troppo no sto pensando che cosa facciamo domani hai qualcosa domani? martedì? di fare golf non so no non devo fare golf? eh si però adesso con lo studio non posso ah ok devo studiare eh si si che ufficialmente devi studiare ma poi non lo fai esatto ma vai con tutti gli altri magari ok sono arrivato e ti lascio lì e io ti lascio lì da solo no 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 dai qua tu dove ti fanno tutti fuori beh ma succede sempre me c'è almeno prima volta oh c'è un basso nel quattro film dove dov'è? oh c'è un suo 85 io l'ho visto dai 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 aspetta che gli faccio credere che sia il tuo forte di me no aspetta 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 che cosa sto facendo? ah ah un amico nel tutto no io mi ha dato un po' un po' la ciatina un po' piccolina e guarda che non mi devo capire l'ho visto no nate 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 c'è un panza e 454 e io vuoi tranquille adesso mi uccide adesso mi uccide adesso mi uccide no non mi uccide ah dai hai una mano con base a 4 kg ai 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 dai, oddio oh, non ci credo rimarca dal lato della torrezza dal lato della torrezza no? bello che strategia mamma mia qui? ma quanto è intelligente quel su 85p eh, è deciso di venire addosso a me ma non ne faccio niente sul il corpo no, no, frega fregato hai liberato il cingolo o no? vabbè, carichiamolo stai arrivando stai scappando stai arrivando il merde no, stai scappando vabbè questo era l'ultimo video l'ultimo video, sì l'ultimo video, sì l'ultima partita eh, sì, sì, mi confondo sempre i ciccione vittorio vittorio e il ludovico alla prossima ragazzi ci vediamo domani non so che cosa faremo sarà un'altra domanda ciao ciao ciao